trova 150 milioni da dare al Napoli per Asimene lo chiedo a Paolo e poi a Francesco no, no, no perché le grandi squadre il Madrid si è tirato fuori, ha preso Josefu ha preso Josefu Manchester City a Olanda, lì non si tocca il Chelsea non vuole spendere tutti quei soldi il Bayern Monaco anche in passato aveva dichiarato che era fuori mercato, la cifre 150 milioni Barcellona e Lewandowski quindi queste grandi squadre che hanno soldi o c'è un Newcastle che ti porta 150 milioni di euro ma non so se Olanda vuole andare a giocare a Newcastle o l'Arsenal ma comunque Gabriel quindi non secondo me non si muove per quella cifra secondo me se lui volesse andare via dovrebbe chiedere lui la cessione ma si dovrebbe raccoltare intorno ai 95 che sta facendo l'interno